Buonasera a tutti, ben ritrovati con la dodicesima live di Oplon. Questa sera siamo con Marco Mostarda e trattiamo qualcosa di molto interessante e importante. Se vogliamo, Oplologia e Storia Militare sono sempre stati in rapporto, più o meno quanto meno, anche perché diciamo che la Storia Militare e l'Oplologia per certi versi si toccano. Fra l'altro voglio qui ricordare che nel 1981 è stato organizzato un convegno a Brescia, Armi e Cultura, dove sono stati invitati due importanti storici militari come John L. e Michael Mellet. Quindi, stasera siamo qui con Marco Mostarda per parlare di storia militare più che di armi. Quindi, per parlare di questo, ci mostrerà Marco un po' qual è lo sviluppo militare, considerando evoluzione di tattiche strategie, ma anche innovazioni tecnologiche, uno sviluppo che intercorre tra la fine del Quattrocento, con la calata di Carlo VIII in Italia, e la fine della guerra di Trent'anni. A te la parola Marco. Grazie Paolo, buonasera a tutti. Come anticipato da Paolo, io non sono un oplologo, non mi occupo di oplologia, non fingerò nemmeno di essere un oplologo, e quindi stasera cercherò di trattare semplicemente quel segmento della storia militare che può essere di maggiore interesse avere un pubblico di oplologi, ovvero il funzionamento di determinate armi sul campo di battaglia, con ovviamente principale interesse e focus quello sulle armi da fuoco, e nel tentativo di evadere da una trattazione specificamente concentrata sulle tattiche, vedremo per quanto possibile, o cercheremo di vedere, anche le ricadute in termini di innovazione tecnologica relative appunto all'avvento delle armi da fuoco, o per meglio dire, il genere di interdipendenze nell'evoluzione tecnologica fra armi da fuoco, trassi italiane, ad esempio quindi ingegneria militare e via dicendo. Visto che la materia è estremamente lunga, io non ho grande fiducia di riuscire a trattare tutto in un'ora, vado immediatamente ad iniziare senza, insomma, tergiversare volte. Allora, io ho preparato una serie di slides con delle didascalie molto minimali, premetto che andrò a braccio nel mio discorso, quindi spero che mi si possano perdonare eventuali, ecco, imprecisioni. Allora, iniziamo dalle origini. Questa è probabilmente una delle immagini più famose, insomma, nella storia militare, soprattutto nelle storie delle armi da fuoco. È una miniatura proveniente per l'appunto dal manoscritto Christ Church della Bodleian University, e viene appunto dal denotabilibus sapiensis e prudensis regum di Walter de Milmet, credo almeno si pronunci così, perché, insomma, all'epoca siamo appunto attorno al 1326-1327, la corte inglese è una corte che parla anglo-normano, che è un dialetto oitanico. Nello specifico questo manoscritto rientra nel filone dei cosiddetti specula principum, quindi trattati volti all'istruzione e all'edificazione del monarca. In questo caso il monarca è Edoardo III, e visto che parliamo del re per l'appunto della battaglia di Cresì, credo si possa immaginare che abbia appreso la lezione, per così dire, insomma, abbia fatto tesoro di quanto veicolato dal denotabilibus. Questa è probabilmente la prima rappresentazione a noi nota di un'arma da fuoco, in questo caso di un pezzo di artiglieria nell'Europa occidentale. Si chiama Pod de Ferre, era molto probabilmente realizzato in ferrofucinato e adagiato su una sorta di cavalletto, quindi su un supporto fisso. In quest'epoca l'evoluzione e il successo delle armi da fuoco si scontra con due ostacoli fondamentali. Un ostacolo di carattere logistico e uno di carattere più propriamente economico. L'ostacolo di carattere logistico riguarda essenzialmente la movimentazione di queste armi primitive, armi da fuoco, diciamo primitive artiglierie per intenderci. La necessaria premessa è che le artiglierie cosiddette meccaniche, per esempio le artiglierie bilanciere più famose e anche più potenti della fine del Medievo come il Trabucco, non vengono trasportate direttamente sul campo di battaglia, vengono costruite in situ con i materiali trasportati dal treno logistico dell'armata. Questo non può accadere entro una certa misura per le artiglierie, a meno che non siano delle artiglierie smontabili, per esempio come la bombarda di Costantinopoli attualmente conservata alla Royal Armoury in Gran Bretagna. Quindi il primo ostacolo evidente era fare i conti con il trasporto direttamente sul campo di pezzi di artiglieria ingombranti, voluminosi, pesanti. Il secondo aspetto fondamentale, diciamo l'ostacolo di carattere economico, era dovuto all'enorme costo che all'epoca aveva la realizzazione e il confezionamento della polvere nera e della polvere da sparo. Noi oggi siamo giunti a una formula per quanto riguarda la composizione della polvere da sparo che ritiene come ottimali percentuali che si attestano attorno al 75% di sal nitro, ovvero di nitrato di potassio, un 15% di carbone, nello specifico di legna, non carbone fossile, e un 10% di zolfo. Il sal nitro, o per meglio dire i nitrati nello specifico, sono sostanze difficilmente reperibili in Europa occidentale, soprattutto al di fuori della Spagna non esistono giacimenti di nitrati, tant'è vero che l'Europa si renderà indipendente per quanto riguarda i nitrati, l'approvvigionamento intendo di nitrati, solo a partire dall'Ottocento quando verranno scoperti i grandi giacimenti di nitrati del Cile, e diciamo che fino al 1380 circa la produzione di nitrati, o per meglio dire lo stoccaggio e l'impiego di nitrati in ambito europeo deriva fondamentalmente dall'importazione di nitrati, nello specifico di nitrato di potassio, dall'India. I nitrati possono essere trovati in natura perché sono dei prodotti di scarto della decomposizione della materia organica. Purtroppo per l'Europa occidentale questi processi di decomposizione non sono aiutati dal clima, nel senso che il prodotto di scarto costituito dai nitrati è reperibile in natura, per così dire, soprattutto in climi caldi di carattere tropicale e subtropicale e in presenza di abbondante materiale di carattere biologico, per così dire. Per lo più parliamo di feci umane e insomma letame, letame animale. Poi nell'Europa medievale per il confezionamento, cioè per la produzione di nitrato, a partire dal 1380 si userà principalmente il letame di cavallo. Quindi la produzione, insomma lo stoccaggio o l'approvvigionamento di nitrato di potassio era estremamente costoso. La principale fonte all'epoca di nitrato di potassio era la valle del Gange e per il clima caldo, umido, tropicale come dicevamo e appunto per la grande abbondanza di materiale soggetto a decomposizione. Tant'è vero che ancora, mi pare, nel 1780-1790 scriveva un osservatore appartenente alla compagnia dell'India, l'East India Company, che uno dei principali metodi per ottenere, potremmo dire naturalmente, il nitrato in India era quello di attendere le piogge monsoniche. Le piogge monsoniche ovviamente determinavano la creazione di una serie di laghetti o di aree paludose di carattere stagionale. In queste aree ovviamente finivano tutta una serie di prodotti di scatto appunto di feci di umane o animali erano soggetti a un processo di decomposizione sotto il pelo di questi bacini d'acqua molto superficiali. Quando con la stagione secca quest'acqua evaporava i sedimenti di salnitro che si erano frattanto depositati sul fondo potevano essere per l'appunto rimossi e utilizzati per produrre salnitro. Poi la faccenda non è così semplice perché i nitrati sono appunto un prodotto di scarto che comprende in sé tanto il nitrato di potassio quanto il nitrato di sodio e il nitrato di calcio. Vedremo che questo è un problema rilevante per quanto riguarda invece la produzione potremmo dire artificiale della polvere da sparo in Europa. Passiamo direttamente alla slide successiva. Queste sono due bombarde inglesi abbandonate da Thomas Cales il settimo barone di Cales a Mont-Saint-Michel nel 1434 ovvero durante la fase conclusiva della guerra dei cento anni e il velocissimo tracollo del potere inglese sulla Francia continentale sono due pezzi oggettivamente bruttini che soprattutto la bombarda di sinistra si vede ha una bocca che è disassata rispetto al resto poi in realtà in questo periodo non si può nemmeno parlare di una distinzione fra volata e rinforzo come nei pezzi successivi quindi diciamo generalmente della canna e l'intera bombarda come si vede è ottenuta assemblando una serie di cerchioni di ferro poi si vedrà che questo sistema prelude a un sistema assai più raffinato e che garantisce prestazioni e sicurezza superiore che è quello cosiddetto hoops and staves che mostrerò nella slide successiva il problema è giustificare per l'appunto come si passi da quel molto rudimentale e non particolarmente massiccio che si vede nella nella miniatura del notabilibus di Walter de Milmet a questi pezzi di artiglieria di dimensioni comunque ragguardevoli il motivo accennato è per l'appunto quello di cui parlavo orora ovvero a partire dal 1380 la polvere da sparo si fa decisamente più economica che in precedenza si parla di una una flessione dei prezzi di dieci volte quelli precedenti al 1380 e permette fondamentalmente la confezione di cariche di lancio molto più grandi rispetto a quelle che erano utilizzate nei pod de ferro del quattordicesimo secolo questa evoluzione per l'appunto è data dal fatto che a partire dal 1380 si inizia a produrre salnitro in Europa attraverso le cosiddette piantagioni di salnitro che non sono affatto delle piantagioni perché fondamentalmente il salnitro per essere prodotto artificialmente viene prodotto in ambienti sotterrani o comunque sia interrati come potrebbe essere una cantina in muratura in cui colui che vuole per l'appunto produrre salnitro si assicura che esistano condizioni ambientali stabili specificamente una temperatura secca e un tasso di umidità abbattuto per quanto possibile insomma il più possibile allora come si produce salnitro? si produce per l'appunto come dicevo dalla decomposizione di materia organica quindi cosa veniva posto in queste piantagioni di salnitro ovvero in questi ambienti interrati veniva posto fondamentalmente feci umane provenienti per l'appunto per esempio dalla 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 dilavazione del dei pozzi neri o delle strade delle città a cui si aggiungeva abbondante stabio cioè abbondante come dicevo stabio di cavallo nello specifico e il tutto veniva irrorato con dell'urina e la cosa più interessante è che il Feuerwerkbuch del 1434 all'incirca annota come ci fosse una netta preferenza per l'urina di forti bevitori di vino e di birra soprattutto perché questa urina ha un alto contenuto un alto tasso di ammoniaca la cui ammoniaca per l'appunto attraverso il processo garantito dai nitrobatteri viene poi scomposta in ammoni e poi appunto in nitrati long story short tanto più che il tempo è poco quindi non posso entrare in tutte le technicalities della produzione per l'appunto di sal nitro il problema fondamentale è che aggiungendo tutta questa serie di componenti a cui peraltro veniva aggiunta anche la calce noi otteniamo dei nitriti e poi dei nitrati il problema è che i nitrati di per sé contengono tanto il nitrato di potassio che interessava nello specifico ai fabbricanti di polvere da sparo quanto il nitrato di sodio e il nitrato di calcio all'epoca non era ancora possibile mettere a punto dei processi chimici che portassero all'eliminazione del nitrato di sodio e il nitrato di calcio e alla concentrazione del nitrato di potassio che è per l'appunto il sal nitro che a noi interessa per la produzione di polvere da sparo cosa succedeva quindi? succedeva che le polveri da sparo create artificialmente o per meglio dire create attraverso la produzione artificiale di sal nitro per mezzo delle piantagioni di sal nitro cosiddette aveva un'alta concentrazione probabilmente questo ovviamente non si sa per certezza un'alta concentrazione di nitrato di calcio nitrato di calcio che è un un elemento una sostanza fortemente igroscopica e che rendeva pertanto le polveri da sparo realizzate con i nitrati ottenuti attraverso le piantagioni di nitrati rendeva per l'appunto queste polveri fortemente igroscopiche questo era un problema rilevante perché queste polveri ovviamente dovevano essere portate in campagna si intende in campagna militare e poi utilizzate in un ampio spettro di condizioni meteorologiche quindi era molto semplice era molto facile che queste polveri venissero corrotte dall'umidità e diventassero inservibili sino a quando per l'appunto non venivano sottoposti a un processo di asciugatura il Feuerwerkbuch si occupa anche di questo processo di asciugatura che peraltro poteva anche comportare l'utilizzo di fonti di calore costituite da braceri purché ovviamente con le dovute avvertenze e i dovuti accorgimenti insomma onde evitare spiacevoli incidenti passiamo alla slide successiva questo è un pezzo di artiglieria che almeno per gli appassionati forse non ha bisogno di presentazioni perché è una delle due grandi bombarde l'altra è la cosiddetta Dulle Grit costruite all'intorno diciamo all'incirca alla metà del quindicesimo secolo per il duca di Borgogna Filippo III il Buono questo è nello specifico appunto Monsbeg costruita si presume da Jean Cambier a Mons attorno al 1449 e donata nel 1457 a Giacomo II Sturri quali sono le caratteristiche salienti di questa bombarda rispetto alla bombarda che ho fatto vedere in precedenza a questi due pezzi di artiglieria oggettivamente bruttarelli conservati a Monsa Michel Mons Meg ha un sistema di costruzione molto più complesso e molto più affidabile che è definito in inglese cosiddetto hoops and staves a mimare sostanzialmente il processo di costruzione delle botti tant'è vero che a tutt'oggi nei pezzi di artiglieria inglesi la canna si chiama barrel esattamente come la botte il sistema è fondamentalmente costituito da una serie di doghe come nelle botti che sono assemblate assieme in italiano si dovrebbe parlare più propriamente di verche che sono poi assicurate assieme da una serie di cerchioni che fanno sì che sostanzialmente queste bombarda abbiano una doppia canna o una doppia anima per così dire il sistema di per sé garantisce la costruzione all'epoca di pezzi anche di notevoli dimensioni notevole calibro senza pregiudicare l'integrità strutturale delle stesse fermo restando che al momento le cariche di lancio di questi pezzi di artiglieria sono comunque di dimensioni piuttosto ridotte nello specifico per quanto riguarda la metà del 400 e le grandi bombarde come Montsmag si presume che la carica di lancio costituisse solo il 15% del peso del proietto che era all'epoca un proietto in pietra le informazioni nello specifico è il fatto che Montsmag sia costituita da 25 staves cioè da 25 dog o 25 verghe e 37 hoops o cerchioni è presa dal libro le artiglierie dei duchi di Borgogna di De Vries e Smith le dimensioni sono quelle annotate nello specifico la bombarda ha un peso di 6 tonnellate e un calibro di 480 mm e la lunghezza è 4.040 mm perdono cioè 4 metri e 40 ovviamente l'affusto qui mostrato non ha nulla a che vedere con l'affusto storico su cui Montsmag doveva essere adagiata al momento dello sparo che probabilmente era una quasi sicuramente insomma era una culla in legno molto robusta ovviamente Montsmag cioè un pezzo di queste dimensioni non veniva nemmeno trasportato su quel tipo di affusto sarebbe servito un affusto molto più grande con molte più ruote nello specifico piene non ha raggi le ruote raggi sono alquanto successive risalgono diciamo la seconda metà del 400 e come si vedrà sono probabilmente un'invenzione borgognona o comunque un'invenzione che emerge in ambito borgognone e al momento poi al momento dell'utilizzo con molta fatica Montsmag doveva essere scavalcata per così dire dal dall'affusto provvisorio mobile su cui era stata caricata e per l'appunto assicurata alla sua culla con un sistema di corde o di catene e quindi azionata passiamo alla slide ancora successiva ecco questo è un dettaglio che sono riuscito a trovare su internet premetto che salvo indicazioni contrarie a tutte le immagini prese sono prese da Wikimedia Commons e ritrae appunto l'altro lato di Montsmag che fa vedere per l'appunto in dettaglio il sistema OPS-Staves di cui parlavo come si vede in questo caso è accaduto proprio quello che un artigliere teme ovvero che la carica di lancio sia troppo potente per insomma le capacità di resistenza della cellula e provochi una rottura e in questo caso per l'appunto è saltato uno dei cerchioni mettendo in mostra il sottostante sistema appunto a doghe o a verghe assemblate assieme non si hanno certezze riguardo alla natura e alla datazione di questo di questo danno ma probabilmente è piuttosto piuttosto recente nel tempo e dovrebbe risalire al 1680 circa quando almeno questo si presume quando Mons Meg venne azionata per l'ultima volta a salve in occasione della visita di Giacomo II Stuart al castello di Edimburgo dove frattanto il pezzo era stato ricoverato passiamo alla slide numero 6 questo viene dal l'etliche unterricht zur befestigung der Städtschloss und Flecken che significa etliche è come dire verschiedene quindi diversi sistemi o diversi modi per la fortificazione delle città dei castelli e dei borghi di Albrecht Dürer nello specifico questa è la copia conservata alla Bayerische Staatsbibliothek e mostra un pezzo di artiglieria decisamente diverso dalla grande bombarda della metà del Quattrocento che abbiamo visto in precedenza passo un attimo alla slide successiva per far vedere le simiglianze ecco questo è un classico canon deduce del sistema Grigboval ed è attualmente conservato alle Simvalides a Parigi come si vede i due pezzi di artiglieria sono estremamente simili al di là ovviamente del maggior arcaismo di questo di questo pezzo specifico ma potremmo dire che i caratteri salienti dei due dei due cannoni sono quasi identici abbiamo intanto un pezzo di artiglieria che non è in ferro forgiato come Mons Meg ma è in bronzo colato suddiviso in una volata e in un rinforzo con degli orecchioni per semplificare le procedure di incavalcamento e scavalcamento con i delfini o maniglioni che sono posti sul punto di equilibrio del pezzo sul centro di gravità e che quindi permettono un più agile sollevamento del pezzo durante appunto le manovre di scavalcamento e incavalcamento e abbiamo un affusto decisamente moderno costituito da una testa due cosce come si si definiscono in gergo e una coda e le due cosce sono tenute insieme da delle traverse e una e la mobilità di questo affusto è caratterizzata o comunque sia garantita dalle ruote raggiare come si vede ecco gli stessi gli stessi caratteri insomma le stesse caratteristiche di base si rincontrano in questo pezzo che era all'epoca uno dei più moderni pezzi a disposizione dell'esercito francese perché come nota a partire degli anni sessanta del settecento il sistema grivoval metterà ordine nei pezzi di artiglieria nei calibri di artiglieria a disposizione dell'esercito francese standardizzandoli in cannoni da 4, 8 e 12 libri questo è il più grande da 12 libri e in obussie cioè obici da 6 pollici il cannone nello specifico è quello che veniva chiamato all'epoca una delle cosiddette belle figlie dell'imperatore per il grande uso che per l'appunto di questi cannoni farà Napoleone Bonaparte sul campo di battaglia e potremmo dire che l'unica differenza fondamentale fra questo pezzo e il precedente pezzo è nel sistema d'also in questo pezzo c'è già una vite d'also che permette una più precisa regolazione appunto dell'also e quindi della gittata del cannone mentre in questo pezzo fondamentalmente non c'è un sistema d'also per meglio dire c'è ma è un sistema d'also che probabilmente è di invenzione dello stesso Albert Dürer a tal proposito ringrazio il dottor Ridella che è il vero specialista di artiglierie soprattutto in bronzo colato che si è prestato molto gentilmente a una consulenza perché io non avevo mai incontrato questo sistema d'also e non avevo mai incontrato il sistema d'also di un altro cannone che viene sempre da un'incisione di Dürer a questo il cosiddetto cannone di Norimberga per così dire e il il dottor Ridella mi ha potuto confermare che effettivamente per quanto lui ne sappia e lui decisamente ne sa molto più di me questi non erano sistemi d'also all'epoca utilizzati perché possiamo dire che sino all'avvento della vite d'also di questo genere di cannone che la vite d'also se non ricordo male è fine 600 primi 700 l'also del cannone che veniva regolato tramite gli orecchioni era assicurato da una serie di cunei di legno che venivano posti al di sotto della colata e questo sarà ancora il sistema in valso all'epoca della guerra dei trent'anni passiamo oltre questo come dicevamo è ti faccio un attimo concludere il discorso artiglierie perché sono arrivati tanti commenti salutiamo tutti però questo è il più divertente permettetemi urbano d'urban immaginavo grazie Silvio per l'assist perché sì in realtà ci stavo arrivando per l'appunto con questa incisione perché questa incisione mostra due due elementi che dovevano essere molto cari a Dürer pezzi di artiglieria e come si vede vicino all'anzicheneco che appoggia il suo il suo braccio su questo pezzo di artiglieria che come osservato dal dottor Ridella è decisamente più rudimentale o comunque sia meno sviluppato del precedente non presenta ancora una netta distinzione fra volate e rinforzo a questi delfini estremamente decorati e questo strano sistema d'alzo che dovrebbe essere caratteristico di pezzi più leggeri non certo da questo besti insomma dovrebbe essere all'incirca con 24 libri si vede la figura del turco a destra questo potremmo dire io non pretendo ovviamente di entrare nello specifico nelle complesse di simbologie che presiedono le incisioni di Dürer se pensi per l'appunto a melancolia studiata da un gran numero di autori per esempio da Panofsky Kribansky e Sachs nel famoso libro sulla melancolia fra medioevo e età moderna però questa incisione è rivelatrice perché facendo un piccolo salto indietro se si vede questo etliche un terript che riassume sostanzialmente le proposte di Dürer in tema di fortificazione e che viene pubblicato nel 1501 27 a Norimberga la città di Dürer pochi mesi prima della morte dell'autore è un trattato specificamente dedicato all'autore dall'autore pardon per la fortificazione delle città germaniche contro il pericolo costituito dall'impero ottomano e potremmo dire che queste preoccupazioni di Dürer a quanto pare già nel 1518 siano riassunte o comunque sia simbolizzate dei caratteri di questa incisione si chiama cannone di Norimberga al di là di landscape with a cannon che è il nome che gli hanno dato al Metropolitan Museum di New York perché se si vede vicino alla culatta dovrebbe purtroppo qui non si vede abbastanza bene perché purtroppo passando le slides su PDF si sono rimpicciolite ma si nota il crest cioè lo scudo d'arme della città di Norimberga passiamo sulle armi da fuoco fra l'altro Marco sulle armi da fuoco portatili sulle piastre per marcare i pezzi realizzati a Norimberga veniva proprio utilizzato lo stem quindi è un aspetto interessante forse addirittura possibilmente collegato proprio a un pezzo magari realizzato proprio a Norimberga allora passiamo oltre forte di saleo allora qui necessario capitale introduttivo probabilmente uno degli dei lavori più importanti per quanto riguarda la guerra nel rinascimento e le guerre italiane è il libro comparso se non mi ricordo male nel 1922 di Friedrich Lewis Taylor il quale sosteneva che la discesa di Carlo VIII in Italia e le artiglierie molto moderne portate da Carlo VIII per la punta in Italia avrebbero presieduto a una velocissima evoluzione nell'arte della fortificazione col conseguente avvento della cosiddetta trassa italiana andando pertanto a contraddire un trend precedente ovviamente precedente alle guerre italiane che era quello di una relativa obsolescenza dell'architettura militare dell'arte della fortificazione in Italia questa questa asserzione è stata poi smentita da una vastissima messe di studi nel secolo successivo che ha dimostrato come ancora prima della discesa di Carlo VIII e ancora prima dell'avvento della trassa italiana l'architettura militare in Italia comunque si fosse posta il problema di rispondere a una minaccia quella delle artiglierie che doveva essere già incombente e determinante per l'appunto nello sviluppo dei sistemi di fortificazione questa è la rocca di Salleo il cui rifacimento moderno perché il nucleo è lungobarto è attribuito a Francesco di Giorgio Martini all'epoca al servizio del duca di Urbino Montefeltro l'addizione moderna cioè quella costituita dai torrioni circolari e dalla cortina angolata con angolo saliente è solitamente attribuita come forchetta cronologica al periodo 1476 78 quali sono i caratteri diciamo fondamentali di questa realizzazione di questa addizione martiniana per così dire alla rocca di Salleo i caratteri salienti dell'architettura martiniana e in generale dei sistemi fortificatori precedenti comunque alla discesa di Carlo VIII è costituita dai torrioni circolari fortemente scarpati con una piattaforma portata a livello delle cortine per permettere l'alloggiamento dei pezzi di artiglieria questo era un torrione che già all'epoca era pensato per ospitare pezzi di artiglieria e una cortina che congiunge i due torrioni circolari che è ugualmente scarpata sulla base ma che presenta questo angolo saliente che è una delle principali caratteristiche potremmo dire distintive dell'architettura militare martiniana la quale si proponeva per l'appunto di opporre all'offesa delle artiglierie queste superfici sfuggenti o come dice Francesco di Giorgio Martini nel suo trattato superfici fuggitive per l'appunto all'offesa dei calibri allo stesso tempo però sia il torrione sia la cortina angolata con angolo saliente presentano questi beccatelli il che significa che all'epoca si era ancora per così dire indecisi su quale strada prendere perché la cortina angolata farebbe e la scarpatura delle torri farebbe presumere una particolare attenzione dedicata a contrastare il tiro delle artiglierie mentre i beccatelli sono potremmo dire alludono al fatto che ancora si poneva il problema della difesa piombante ovvero di come neutralizzare degli attaccanti che si dovevano necessariamente assiepare al di sotto appunto delle mura scarpate per dare l'assalto all'ansant della fortificazione passiamo oltre questo è il forte sangallo di Civita Castellana la cui costruzione o per meglio dire il cui progetto è attribuito ad Antonio da Sangallo il Vecchio questo forte insieme ad altre realizzazioni sangallesche che poi si vedrà questo per esempio il forte di Sangallo ma di Nettuno o alle costruzioni per l'appunto di Francesco di Giorgio Martini vengono solitamente annoverate dall'architettura militare nella categoria molto lasca di fortificazioni di transizione facendo intendere che siano una sorta di passaggio intermedio fra di necessario passaggio intermedio fra le fortificazioni medievali e i caratteri distintivi e salienti della classe italiana ora un grande storico della storia delle fortificazioni come Amelio Fara ha già avuto modo di sottolineare come il concetto di fortificazione e di transizione non abbia in realtà molto senso perché attribuisce all'evoluzione delle fortificazioni dei caratteri di necessità per cui il bastione pentagonale che verrà poi consacrato attorno agli anni 30, 40 e 50 del 500 da architetti come ad esempio oddio non solo Antonio da Sangallo il vecchio e poi Antonio da Sangallo il giovane ma anche Gabriel Busca per esempio avesse o in ambito veneziano per intenderci un altro un altro nome importante quello del duca di Urbino avesse una sorta di carattere di inevitabilità che poi è una una nazione per così dire che deriva dall'architettura all'architettura insomma dagli studi di architettura militare da una serie di pareri non non sempre molto ben informati che sostanzialmente attribuiscono al bastione pentagonale una sorta di status di end point ovvero di punto di arrivo dell'architettura militare ora nello specifico il forte sangallo di civita castellana ha già questa questa forma irregolarmente pentagonale che sarà poi regolarizzata nei pentagoni perfetti realizzati da ad esempio da francesco paciotto nella nella costruzione delle cittadelle al probabilmente più note degli anni 50 e 60 del 600 che sono la cittadella di torino e la cittadella di inversa e si vedono qui oltre a un torrione circolare che per l'appunto è una rimanenza medievale quattro altri torrioni di forma ancora potremmo dire embrionalmente pentagonale con questa spalla arrotondata e questi angoli smussati nel tentativo sempre di opporre superfici sfuggenti o fuggitive al tiro delle artiglierie avversarie nel caso del forte di Civita Castellana particolarmente evidente anche questo mastio ottagonale che non ha un immediato nesso insomma con il fronte ancora impropriamente bastionato ma potremmo dire una sorta di residuo medievale che deriva dai torrioni pentagonali esagonali e ottagonali che si affermano già a partire dal XIII secolo forme più nette invece in cui si può già nel complesso parlare di trasi italien presente il forte sangallo di Nettuno intanto vediamo la prima caratteristica è questa la cortina ovvero il tratto di muro racchiuso fra i due bastioni è una cortina rettilinea questa è probabilmente la principale innovazione delle fortificazioni sangallesche rispetto ai metodi martiniani che abbiamo visto con quella con quella cortina angolata e dall'angolo saliente che poi in realtà verrà ripresa verrà ripresa per esempio nei tracciati degli anni 60 70 80 del 500 soprattutto nelle fiandre quando si iniziano a a creare delle cortine angolate che poi determinano insieme al perimetro dei bastioni un andamento fortemente tanagliato della controscarpa della strada coperta e quindi del glasio ovvero dello spalto ma insomma speriamo di arrivarci avendo a disposizione abbastanza tempo il bastione sì volevi dire qualcosa in realtà una domanda di Sibio secondo me interessante anche per la comprensione le artiglierie del periodo erano principalmente a tiro teso giusto i mortai dovrebbero essere meno comuni e conseguenti i primi esempi di trance italiane se ricordo bene allora i mortai in realtà sono già già diffusi ma i mortai non risolvono il problema nel senso che quando si parla di artiglierie della prima e metà moderna si parla comunque di artiglierie notevolmente imprecise era molto complesso tentare di piazzare un colpo di bombarda a cavaliere come potremmo dire di un bastione o di una cortina le bombarde erano solitamente utilizzate per colpire le truppe che si assiepavano al di là della cortina insomma del fronte bastionato e questo era comunque sia un metodo di utilizzo in cui le bombarde sicuramente eccellevano tanto più che come forse avremo modo di vedere sempre se ci passa il tempo una delle caratteristiche dei fronti bastionati soprattutto i grandi fronti i grandi fronti bastionati che presiedono alla difesa delle città non quindi a forti specifici come il forte sangallo di Nettuno o appunto quello di Civita Castellana è quello di creare vaste piazze militari vasti spiazzi al riparo della cortina dove le truppe possano concentrarsi e quindi essere spostate la bisogna lungo tutto il fronte bastionato per difendere di volta in volta il settore il tratto del fronte in cui vi sia la minaccia di un'apertura di una breccia da parte delle artiglierie avversarie per quanto riguarda invece l'apertura di questa breccia questa doveva essere necessariamente provocata dal tiroteso delle artiglierie insomma dei normali cannoni poi in realtà cannoni è un termine impreciso perché poi i principali pezzi di artiglieria utilizzati durante l'asserio comunque sia i più pesanti e quelli ritenuti più efficaci erano le colubrine con una lunghezza superiore ai 30 o 35 cali quindi spero di aver risposto alla domanda di Silvio peraltro proprio perché le artiglierie dell'epoca sono notevolmente imprecise questi dovevano battere il fronte bastionato da una difesa eh pardon da una distanza molto 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 breve eh basti considerare che ancora alla fine del seicento se non ricordo male del 1675 eh quando Vauban sottopone le sue memorie su come condurre un assedio cioè sui metodi eh migliori per condurre un assedio all'Uwa eh Vauban prescrive che le artiglierie debbano battere o la faccia del bastione o mh la superficie della cortina insomma comunque sia eh il il sistema fortificatorio in cui si vuole aprire una breccia da una distanza non superiore alle 400 yard che se non ricordo male sono 360 metri ora 360 metri è veramente poco c'è una distanza esigua per l'azionamento di un pezzo di artiglieria come potrebbe essere un pezzo da 24 libre come solitamente erano i cannoni d'assedio francesi dell'epoca quindi quando noi parliamo di artiglierie insomma parliamo comunque di di sistemi d'arma che contrariamente a quello che potrebbe essere la nostra percezione di moderni per essere realmente efficaci dovevano essere azionate da da una distanza veramente ridotta ora non vorrei divagare molto tanto più che il tempo è poco ma basti considerare che quando Vauban sistematizza il i suoi metodi insomma per condurre un assedio funzionale ad esempio attraverso le cosiddette parallele delle quattro parallele collegate dalle cosiddette trincee d'approccio che Vauban teorizza la parallela più più distante e più ampia la prima parallela che si deve aprire potremmo dire al limite del tiro dei pezzi avversari beh questa parallela è disposta praticamente a 800 metri dalla strada coperta e la quarta e ultima parallela che dovrebbe per l'appunto portare l'assediante direttamente a ridosso delle difese e che è coronata dai cosiddetti cavalieri di trincea che sono delle piattaforme che dovrebbero coronare per così dire le trincee d'approccio beh questi cavalieri di trincea sono teorizzati da Vauban direttamente al ridosso della strada coperta cioè si parte dal presupposto che la quarta parallela deve essere alla base dell'eglacy cioè la base dello spalto e che poi debba per l'appunto sovrastare la strada coperta che difende lo spalto attraverso questi cavalieri di trincea che dovrebbero per l'appunto garantire sulla strada coperta avversaria della fortezza avversaria un tiro piombante quindi si parla per l'appunto di poche decine di metri questo peraltro è un carattere ancora tipico non solo del settecento ma ancora dell'ottocento perché se non ricordo male nel course of instruction of ordinance and gunnery di Rodman pensato per l'istruzione degli allievi di West Point l'edizione che io ho consultata del 1862 ma se non ricordo male la prima edizione è addirittura precedente la guerra civile beh Rodman parla sostanzialmente nel teorizzare i modi migliori per fare breccia in una fortificazione avversaria Rodman sostanzialmente parla di tirare sulle difese avversarie da una distanza di circa 35 metri che è veramente poco pochissimo potremmo dire comunque scusate per l'ampia divagazione c'è solo un'aggiunta da parte di Gianni Vidella che salutiamo che ci dice l'impiego nei mortai di proietti esplosivi è fidabile cosa di 600 avanzato grazie per la precisazione fra l'altro una cosa che ti volevo chiedere magari ci stai giustamente illustrando quelli che sono un po' gli sviluppi dell'architettura militare italiana c'è in particolare tu hai citato una cittadella c'è in particolare una cittadella che fra l'altro non è in Italia che è molto interessante volevo chiedersi se poi hai voglia di illustrarla anche perché sarà una cittadella ideata da italiani che verrà assediata da un italiano esatto è la famosa cittadella diversa di facciotto ecco sì io cercherò di abbreviare tanto più che io avevo preparato 48 slides sono le 9 e 45 sono la slide numero 12 ancora quindi siamo in mostruoso ritardo comunque cercherò di fare un fast forward per così dire un'ultima parola su questi caratteri salienti qui abbiamo un carattere eh pardon abbiamo un bastione pentagonale già propriamente pentagonale sia pur con vertici smussati munito di orecchione che è questa struttura semicircolare aggettante che è a protezione del fianco ritirato del bastione che io ho cercato di isolare in una foto un po' sfocata perché anche questa è sostanzialmente un croco che io ho fatto da una immagine di Wikimedia Commons si vede il fianco ritirato intanto si vede la cornice marcapiano che distingue i due ordini di difesa con una cannoniera posta all'ordine inferiore che si apre direttamente sulla conversità dell'orecchione e una cannoniera superiore che invece si apre sul fianco ritirato possiamo dire che in questo modo si aveva un perfetto fiancheggiamento delle strutture per fiancheggiamento difesa di fianco si intende il fatto che ciascun elemento del fronte bastionato sia difeso dagli altri elementi del fronte bastionato che gli stanno accanto cercherò ora di abbreviare molto ecco questa è una cosa di cui avrei voluto parlare ma di cui purtroppo non si potrà parlare è una delle proposte di Albrecht Dürer questo diciamo massiccia rondelle insomma questo massiccio bastione semicircolare sembra circolare in realtà è semicircolare e si innesta nel perimetro difensivo su una base rettangolare solitamente è stata considerata una proposta anacronistica rispetto al coevo sviluppo del fronte bastionato perché Dürer non presenta fortificazioni ascrivibili insomma nei caratteri salienti della classe italiana se non che per l'appunto Amelio Fara sostiene che in realtà questo non sia un anacronismo io su questo concordo ma sia qualcosa di decisamente in anticipo sui tempi perché il diciamo questo 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 bastione semicircolare avrà poi una grande influenza su Montalambar a partire dalla seconda metà del settecento per l'appunto e porterà per l'appunto allo sviluppo di quei fronti circolari tipici della fortificazione di Montalambar in diretta contrapposizione critica ai caratteri ormai codificati della classe italiana che erano portati avanti dall'Ecole des Messiers arriviamo per l'appunto a quello di cui parlava Paolo ora ci arriviamo con un po' di pazienza questo è tratto da Franz Hugenberg e Georg Brown Civitate Sorbis Terrarum che era è stata una famosa pubblicazione dell'epoca un famoso atlante dell'epoca nello specifico la cosa che ci interessa è per l'appunto quella in basso a sinistra ovvero questa cittadella pentagonale di cui io ho esilato un dettaglio grazie a Dio un po' meno sfocato questo è potremmo dire il coronamento della classe italiana nella sua codificazione finale a metà del Cinquecento le innovazioni successive si avranno comunque sia in ambito diciamo neerlandese quindi nell'ambito geografico delle fiandre l'ensante è costituita da un una forma pentagonale perfetta con cortine rettiline rispetto al fianco ritirato del bastione fianco ritirato che in questo caso è protetto non da un orecchione non dall'orillon poi codificato da Vauban ma da un elemento quadrangolare che in questo caso si chiama mussone e da due rivellini sì sono due rivellini che nello specifico proteggono due dei tre accessi alla cittadina un'altra delle caratteristiche interessanti di di questa fortificazione sono diciamo questi elementi quadrangolari che non so che si vedono lungo lungo il perimetro delle cortine sembrano delle sorte di cubi e sono dei cavalieri cioè delle piattaforme sopraelevate di artiglieria a difesa della cortina o per meglio dire in questo caso non sono solo a difesa della cortina perché questi sono elementi introdotti a partire dal 1530 da Francesco Maria della Rovere lo citavo precedentemente il famoso duca di Orvino che è un valente ingegnere militare che opera per lo più in ambito in ambito veneto il quale Francesco Maria della Rovere si rende conto a partire appunto dagli anni trenta del cinquecento che la minaccia portata dalle artiglierie dell'assediante non era più rivolta molto verso il perimetro delle cortine ma era rivolta verso le facce dei bastioni per cui le facce dei bastioni dovevano essere necessariamente protette sempre in nome per l'appunto della teoria del fiancheggiamento dal fuoco proveniente stavolta dalle cortine ecco i cavalieri o piattaforme che si vedono per l'appunto a ridosso delle cortine servivano per l'appunto a proteggere i bastioni o le facce dei bastioni in questo caso dall'offesa nemica attraverso un tiro radente delle proprie artiglie la cittadella di Francesco Pasciotto è probabilmente ah questo però è una cosa ancora precedente vabbè passo indietro la cittadella di Francesco Pasciotto ha una storia diciamo abbastanza travagliata nel senso che viene appunto costruita nel 1568-72 peraltro con la consulenza di altri due grandi ingegneri militari italiani che sono Gabriel Serbelloni e Chiappino Vitelli come ha avuto modo di scrivere tempo fa Chiappino Vitelli è anche l'autore per così dire della reintroduzione in ambito vallone insomma nel teatro di guerra delle fiandre del sistema di accerchiamento e quindi di assedio di una piazza forte ma dovremmo dire più propriamente di blocco di una piazza forte attraverso i sistemi la costituzione per così dire di una cinta di contravallazione e circonvallazione che è presa di peso dall'esperienza delle guerre d'Italia perché il primo a farne uso è per l'appunto Prospero Colonna nel 1522 durante l'assedio della cittadella di Milano Gabriel Busca che è un famoso grande ingegnere militare dell'epoca che è consultato da Pacciotto per la costruzione della cittadella di Anversa lo ritroviamo in questo assedio che è l'assedio di Maastricht del 1579 probabilmente il primo grande assedio portato avanti da Alessandro Farnese non senza sfondoni potremmo dire perché Alessandro Farnese decide di attaccare di slancio le fortificazioni di Maastricht nel 1579 viene sanguinosamente respinto impara velocemente la lezione perché per l'appunto è Alessandro Farnese e decide di sistematizzare per così dire le operazioni di blocco della cinta bastionata di Maastricht questa illustrazione nello specifico è molto affidabile perché Pierre Le Quavre è un ingegnere militare vallone nativo di Mons per l'appunto la città assediata da Chiappino Vitelli che faceva parte del seguito di Gabriel Serbelloni che nello specifico era il principale consigliere di Alessandro Farnese quando si trattava appunto di operazioni da sé e si vede nettamente la cinta di controvallazione non so se insomma gli spettatori da casa riescono a vedere perché è venuta molto rimpicciolita nel passaggio alle slides mentre la la pardon la linea di circonvallazione in questo caso non è propriamente tracciata in modo continuo ma può essere intuita dalla somma dei vari campi fortificati che sono scaglionati a distanza rispetto alla linea di controvallazione e se vedete la linea di controvallazione ha una serie di piccoli fortini o capisagli o casematte che sono a loro volta abbastionati non so sempre se si può vedere ma in basso a destra dove si vede appunto il fiume Mas cioè la mossa da cui per l'appunto Maastricht è stato costruito un ponte di barche questo potremmo dire l'esordio di Giovanni Battista Piatti e Propercio Barossi che saranno i realizzatori del ponte sulla schelta del più famoso assedio di Ambersa all'epoca la cittadella del Paciotto già non esisteva più diciamo in parte non esisteva più perché quando la città di Ambersa cade nelle mani degli insorti neerlandesi la prima cosa che gli insorti fanno è demolire in parte la cittadella di Ambersa come simbolo dell'odiata oppressione spagnola passiamo oltre ecco e questo è uno dei pezzi forti della serata per così dire perché il famoso ponte di Ambersa fatto costruire per l'appunto da Alessandro Farnese e la cui costruzione è curata per l'appunto da Giovanni Battista Piatti che cura il progetto e da Propercio Barossi che ne cura la realizzazione pratica sul campo e come si vede questa è come dicevamo con Paolo una Italian connection notevole perché è italiano il costruttore della cittadella di Ambersa è italiano il comandante in capo delle truppe spagnole che si occupano di assediare Ambersa sono italiani i costruttori del ponte e è italiano l'ingegnere militare che cercherà di distruggerlo ovvero il famoso Federico o Federico Giambelli o Giannibelli nativo di Mantua che sarà l'autore probabilmente della prima interpretazione nell'età moderna del cosiddetto Brunotto che poi avrà una grande per quanto breve cronologicamente fama nelle operazioni navali per l'appunto tra 500 e 600 indicativamente fra la campagna dell'armada del 1588 e la terza guerra anglo-olandese ma qui si facciamo più nella storia navale che è il mio ambito di lezione quindi torniamo a noi il ponte purtroppo non si vede ma in alto a destra è segnata l'obbligazione geografica del ponte si vede Callo a sinistra che gli spagnoli dell'epoca insistevano nel chiamare Callao come il porto di Lima ma si chiama propriamente Callo ed è anche sarà anche negli anni 30 del 600 il sito dell'ultima battaglia campale fra l'esercito spagnolo del cardinale Infante e le truppe olandesi e a destra si vede Lillo che è il nome della fortezza che presideva cioè diciamo controllava l'accesso all'estuario della Schelda gli spagnoli non riescono a prendere Lillo perché attraverso un sistema di chiuse gli insorti olandesi riescono ad allagare il perimetro attorno alla fortezza mettendolo sostanzialmente in comunicazione con il corso della Schelda e quindi cercano di bypassare il forte di Lillo costruendo questo ponte il cui obiettivo è per l'appunto quello di sbarrare il corso della Schelda e quindi evitare che con l'alta marea gli insorti olandesi possano approvvigionare attraverso la propria flotta il centro di Ambersa e far sì che appunto la città possa essere ridotta per fame come già era stata ridotta per fame ma strict grazie all'isolamento garantito appunto dalle linee di contravallazione e circonvallazione il ponte come si vede ha due ridotti bastionati uno in direzione di caldo l'altro in direzione di lì lo potremmo dire una sezione costruita su piloni di legno o per meglio dire due sezioni costruite su piloni di legno e una sezione centrale che invece è propriamente un ponte di barchi ancorato ed è proprio la sezione che Federico Gianbelli o Giannibelli si propone di distruggere attraverso questi brulotti Giannibelli come ipotizza Christopher Duffy doveva aver preso molto male il fatto di essersi proposto a Filippo II di essere stato brutalmente scartato e quindi forse per spirito di rivalza forse per interesse economico forse chissà passa al servizio degli insorti e passa nello specifico al servizio della Municipalità di Anversa e realizza questi due grandi brulotti ciascuno dei quali caricato con 18.000 libri di polvere nera e non solo perché le 18.000 libri di polvere nera vengono a loro volta pavimentate con lastre di pietra che vengono addirittura prese dal cimitero di Anversa cioè sono letteralmente pietre tombali e lastre tombali spesse due piedi due piedi e al di sopra di queste grosse pietre vengono a loro volta affastellati barilotti di chiodi rottami di ferro di modo che appunto questi questi brulotti possono avere insomma esercitare il massimo danno possibile i due brulotti per dovere di cronaca si chiamano Hope e Fortuin ovvero speranza e fortuna vengono lanciati Fortuin si incaglia tristemente lungo una uno dei litorali insomma della Schelda invece Hope arriva a destinazione esplode e uccide di colpo 800 800 soldati spagnoli oltre due comandanti credo fossi di Roblesse che viene praticamente ritrovato in male condizioni praticamente aderente a uno dei piloni del ponte viene letteralmente rastiato via il pover uomo e se non che comunque sia il successo di Giambelli e Gionibelli non può essere sfruttato per tempo e quindi questa notevole impresa ingegneristica del Giambelli rimane praticamente senza conseguenze e il ponte viene velocemente ricostruito e Anversa cade per fare passiamo al ultimo vi lascio una chicca sul trionfo spagnolo italiano di Anversa considerando una cosa che ho trovato in archivio di stato a Brescia praticamente è questa lettera di un nobile bresciano che per l'appunto partecipa all'assedio scrive al conte di Gambara e a un certo punto nel documento dice hanno fatto tanti trionfi con sparamento di tanta artilleria che pareva che volesse cascare l'aria naturalmente stavano festeggiando è una cosa fantastica un sacro festeggiamento esatto volevo dirti due cose che sono allora rispondo solo a una domanda un attimo Giuseppe Mattarese che chiede se sarà possibile rivedere la registrazione si sarà possibile e allora ti dirò abbiamo una ventina di minuti cercherò di fare di volate insomma diciamo che sicuramente ci sarà una parte due prima o poi come ho spiegato in qualche commento però perché non riusciamo a trattare tutti praticamente siamo solo a metà della trattazione che vi ero proposto cioè praticamente siamo solo ancora la parte di architettura militare tristemente non siamo la parte del campo di battaglia per così dire sono andato lungo come mio solito non ho il dono della sintesi comunque dimmi se volevi aggiungere qualcosa poi riparto no figurati ti lascio dicere un po' cosa vuoi fare in questi ultimi cerco di fare il possibile perché è bellissimo ascoltarti tu lo sai è un piacere grazie mille allora fast forward molto velocemente questo è uno dei primi esempi di potremmo dire all Dutch system questo è questo nello specifico è Hoisden di Jakob Kemp Jakob Kemp è un valente ingegnere militare olandese ed è il principale discepolo di Simon Stavien per chi abbia studiato un po' di architettura militare di storia militare dell'epoca Simon Stavien è il principale consigliere di Mauriz di Nassau sia in materia di architettura militare sia in materia di ingegneria quindi è qualcuno che non solo costruisce le fortelle ma si propone di prenderle di assediarle nel modo più indolore possibile Burtang Vesting Burtang Vesting significa fortezza in olandese è completata nel 1593 ma diciamo che il prime mover era stato Guglielmi il taciturno che ordina di costruirla se non che non ne vede mai la realizzazione perché se non ricordo male viene ammazzato il povero nel 1584 o qualcosa del genere e vediamo tutti i caratteri salienti dell'old dutch system che intanto non è costruito non è costituito in muratura ma è costituito in terra pressata quindi sono propriamente terrapieni nel vero senso del termine il fronte diciamo l'andamento del fronte bastionato pentagonale con bastioni e cortine perpendicolari al fianco di bastioni rimane lo stesso ma vediamo un'altra delle caratteristiche principali del sistema olandese che è quello del grande sviluppo delle opere avanzate gli outworks in inglese e infatti abbiamo nello specifico in basso e a sinistra due ribellini a protezione delle rispettive cortine e in alto quello che rimane di un'opera a corona costituita da un bastione centrale e due mezzi bastioni collegati per l'appunto da due cortine sempre rettilinee un'altra caratteristica fondamentale è che il fosso che appunto divide la controscarpa e la relativa strada coperta con con le glacis rispetto alla scarpa del fronte bastionato non è asciutta come nelle realizzazioni italiane ma è riempita d'acqua ed è una realizzazione che nell'intento olandese deve riuscire con successo a rendere particolarmente ostiche le operazioni di minamento e le fabose gallerie di minamento e qui vediamo probabilmente il migliore esempio di Old Dutch System appunto la fortezza di in cui si vede intanto il grande sviluppo dei bastioni che ora non sono più posti a tiro di cannone l'uno dall'altro ma a tiro di moschetto e nello specifico se non ricordo male sono 225 metri fra un bastione e l'altro che non è proprio un tiro di moschetto perché diciamo che un tiro di moschetto inizia ad essere efficace sotto i 100 metri ma diciamo che ci prova ecco vediamo che peraltro tutto il fronte bastionato dei bastioni e delle cortine è bordato da una falsa braga o fosbre che è continua e poi ci sono questi questi rivellini che proteggono le rispettive sezioni di cortina questa in realtà è in parte una ricostruzione moderna a partire insomma dagli anni 50 e 60 del 900 quando sono stati fatti imponenti lavori di restauro ma ho visto una delle incisioni che impianta insomma mostravano la fortezza di Ois nel suo aspetto originale e nella zona allagata in alto c'era una enorme diciamo massiccia opera a Corri e si vede un'altra delle caratteristiche fondamentali appunto del sistema volandese ovvero il fatto che la somma del profilo dei bastioni e dei rivellini conferisca un andamento fortemente tanagliato come si vede alla strada coperta alla controscarpa alla strada coperta e al relativo spalto insomma quello che per abitudine io chiamo glassì perché poi viene insomma sistematizzato da Bobano questa ostenda partono obsessa e capta di Johan Blau che è un famoso geografo dell'epoca autore anche di un famosissimo atlante probabilmente l'atlante più famoso del 600 allora sto cercando di sintetizzare al minimo tagliando brutalmente cosa avrei voluto dire in merito allora c'è Emiliano che ci ha fatto una proposta che secondo me è molto intelligente fate oggi l'architettura e la prossima è campo di battaglia così abbiamo anche l'occasione per invitarti ok si it makes sense perché non faremo mai in tempo a trattare tutto altrimenti quindi se vuoi un po' allungare di nuovo vai ok quindi mi mi riessendo di nuovo allora questa questa è una raffigurazione che ho incontrato per la prima volta peraltro nel libro di Duffy poi ho ricavato sempre da some wikimedia commons per così dire ed è una rappresentazione molto precisa e molto dettagliata della cinta abbastinata di ostenda che vabbè la l'incisione del 1649 ma la sedia originale si sviluppa dal 1601 al 1604 è lunghissimo probabilmente il fatto d'arma è più lungo in assoluto più sanguinoso della guerra degli 80 anni nelle Fiandre ed è una sedia estremamente interessante perché per la prima volta dell'epoca di Alessandro Farnese gli spagnoli cioè l'esercito spagnolo delle Fiandre non sono in grado di isolare la cittadella di Ostenda e di prenderla per fame perché la cittadella di Ostenda come si vede può essere rifornita dal mare l'accesso a destra e nello specifico quella sorta di stretto canale al ridosso del cavaliere spagnolo quella sorta di costruzione semicircolare è l'accesso al porto vecchio di Ostenda il fatto che gli spagnoli non possano fisicamente bloccare Ostenda e prenderla per fame li spinge necessariamente ad attaccare le fortificazioni e che io sappia questo è il primo esempio nella storia delle operazioni ossidionali dell'architettura militare in cui le operazioni di assedio si concentrano quasi esclusivamente nella difesa o nella presa degli outworks cioè degli elementi fortificatori avanzati si vede quello che Christopher Duffy chiama Sand Hill Bastion cioè il bastione della collina di Sadia che poi diventerà di ferro come dice mi sembra fosse Sir Francis Weir nei suoi commentari tanto è il metallo tirato dalle artiglieri spagnole nel tentativo di prenderlo e si vede la principale diciamo la principale proposta ingegneristica degli spagnoli che è realizzazione di questo enorme cavaliere semicircolare al di là appunto dell'accesso al porto vecchio di Ostenda che dovrebbe garantire per l'appunto il fuoco di infilata sui bastioni che proteggono il fronte a mare di Ostenda cioè quella sorta di ampia lingua sabbiosa compresa fra i due accessi il porto vecchio e il porto nuovo e quella sorta di fossato interno che in realtà è un prolungamento del fiume su cui Ostenda si trova e questo è anche diciamo il primo esempio storico in cui ha modo di rifulgere la diciamo la stella di Ambrogio Spinola a dispetto di un suo diciamo errore più o meno fra virgolette che è quello di fidarsi del famoso Pompeo Targone questo questo personaggio piuttosto improbabile che viene inviato dal Papa direttamente da Ostenda perdona direttamente da Roma a Ostenda come sorta di regalo perché Pompeo Targone passa per essere un ingegnere militare un architetto particolarmente valente se non che si scopre che insomma il suddetto Targone è una sorta di ingegnere da biblioteca e tutte le sue realizzazioni non sono fattivamente realizzabili sul campo e quindi Ostenda deve essere sostanzialmente presa con il sangue spagnolo si parla di circa 80.000 caduti nell'arco di tempo compreso fra il 1601 e il 1604 fermo restando che ovviamente quando si parla di operazioni militari nella prima età moderna si dà per inteso che la gran maggioranza degli 80.000 caduti siano morti per fame per malattia insomma diciamo forse un quinto un sesto del totale siano effettivamente stati uccisi sul campo di battaglia questo fa riferimento per l'appunto alla sede di Julich del 1621 che è la prima operazione che è la prima operazione militare condotta da Ambro Giospinola dopo la tregua dei 12 anni Sebastian Branks è uno dei grandi nomi dell'epoca insomma è probabilmente insieme a Peter Snyers il maggior il maggior pittore di battaglia dell'epoca affermo restando che ovviamente Snyers ha decisamente il primato e mostra un po' più in dettaglio quella che era per l'appunto una una linea una cinta di contravallazione dell'epoca a ridosso appunto dell'Ansant di Julich è costituita per l'appunto da una serie di capisaldi a loro volta abbastionati che questa è la cosa caratteristica e interessante il motivo per cui li ho scelti come si vede insistono parzialmente sul tessuto dei villaggi preesistenti cioè fondamentalmente il buon architetto militare il buon ingegnere sfrutta le caratteristiche del territorio e in questo caso per realizzare la cinta la cinta di contravallazione fortifica in primo luogo i luoghi le costruzioni e i borghi che già si prestavano a insomma a costituire dei punti dei capisaldi di resistenza e leggevo una proposta interpretativa di Gregory credo oddio non ricordo di preciso il nome e sì Gregory Martin praticamente una delle pochissime cose che mi sono segnato perché credevo per l'appunto di non potermela ricordare a memoria secondo secondo Gregory Martin diciamo il personaggio che si vede in primo piano quello con la fascia a tracolla rossa tipica appunto degli Asburgo e il pennacchio rosso dovrebbe essere Hendrik van de Berg che era uno dei più fidati logotenenti di Ambrogio Spillon e nello specifico era stato incaricato da Spingola di portare avanti l'assedio di Uri ho Grolla Obsessed e Expugnata sempre da Johann Blau questo è un assedio sì l'immagine è del 1649 76 ma l'assedio è del 1627 se non ricordo e l'ho scelto come immagine perché oltre a mostrare una purtroppo anche in questo caso il dettaglio è andato perduto malauguratamente durante il passaggio alle slides su PDF ma al di là della cinta di circonvallazione che in questo caso invece è molto evidente ed è continua e abbraccia anche due maggiori campi fortificati realizzati dagli olandesi perché questo è una sedia appunto portata avanti da Friedrich Hendrik di Nassau contro la città di Grolla in olandese moderno Grillo tenuta dagli olandesi l'ho scelta perché invece la cinta di contravallazione per quanto si possa vedere è costituita da una serie di elementi rettangolari o quadrangolari che sono i punti di resistenza per così dire della cinta di contravallazione o per meglio dire delle trincee aperte dagli olandesi e sono la principale innovazione introdotta dagli olandesi nell'arte dell'assedio dell'epoca ovvero il fatto che le trincee aperte attorno all'ansante di un forte di una città assediata debbano avere appunto dei centri di resistenza a loro volta pesantemente fortificati oh questa è una cosa che avrei voluto trattare ma va bene ci spendiamo i cinque minuti credo residuali questo è il plan relief di Nef Brissach che è Nef Brissach è una fortezza disegnata da Voban poi la sua costruzione non è portata avanti da Voban perché Voban muore malauguratamente prima del termine dei lavori ma è credo l'unica rappresentazione completa del suo terzo sistema di fortificazione Nef Brissach ha una particolare importanza perché Alt Brissach ovvero la città vecchia di Brissach era uno dei principali punti di attraversamento del Reno i francesi perdono il controllo di Alt Brissach dopo la guerra della grande alleanza e decidono di costruire ex novo una giunta moderna ad Alt Brissach sulla sponda opposta del Reno che è appunto Nef Brissach e Nef Brissach è fortificata da Voban e qui vediamo gli elementi fondamentali del terzo sistema di Voban ovvero il bastione viene trasformato in una sorta di tour bastionneo ovvero di torre bastionata pentagonale il il bastione pentagonale viene distaccato dall'Ansant diventando una sorta di controguardia nel senso che elementi avanzati al bastione già esistevano ma erano controguardie propriamente al bastione in questo caso è proprio il bastione distaccato che diventa una sorta di controguardia ulteriormente amplificata e ulteriormente ulteriormente munita fra i diversi bastion detascee si vede per l'appunto la tenaia che invece protegge la cortina fra i differenti tour bastione appunto questi bastioni avanzati la quale la quale tenaia è a sua volta protetta da un rivellino questo è potremmo dire il massimo sviluppo degli outworks cioè il massimo sviluppo delle fortificazioni avanzate e fanno sì che a tutti gli effetti nef-brisac cioè il terzo sistema di Vauban si sviluppi in due fronti bastionati che è la famosa enceinte desiuretés cioè la cinta bastionata interna costituita dall'insieme appunto delle torri bastionate e delle cortine e un enceinte de combat avanzata che invece è costituita per l'appunto dall'insieme dei bastioni detaché cioè dei bastioni distaccati sorte di controguardie delle tenaie e dei rivellini che stanno ad ulteriore protezione del tenaie e in questo caso il fossato è il massimo sviluppo perché il fossato potremmo dire che guarnisce senza soluzioni di continuità sia l'insieme desiuretés sia l'insieme des combats e a sua volta per l'appunto conferisce questo andamento fortemente tanagliato alla controscarpa alla via coperta insomma e poi alle glassie ecco e siamo arrivati alla slide 25 per l'appunto dove inizia la parte dedicata alle battaglie campali quindi non so credo mi fermo beh direi che magari questa parte Marco davvero la riprendiamo una volta che è finito il nostro ciclo di live tanto ne mancano due quando vuoi ci organizziamo tanto qui ci hanno già letto che due tre altre live due addirittura non so se ha abbastanza voce ora ci dice finiamo inevitabilmente a fare una rievocazione di assalto alle mura quindi direi che sono convincente ah sì poi Silvio ci dice qui tocca fare un campus ci chiudiamo per due o tre giorni in qualche castello e parliamo lo sfidimento beh dai magari al forte di Nettuno dei Sangallo nel frattempo c'è una serie di cose di cui come sai io volevo parlare ma di cui non ho fatto in tempo a parlare tipo la granulazione della polvere nera il cosiddetto corning perché è fondamentale nel passaggio dalle grandi bombarde del 400 ai pezzi in bronzo colato insomma della fine del 400 del primo del 500 però altronde il tempo è quello vabbè io direi che se vuoi davvero ci organizziamo dopo il ciclo di live che tanto finiamo tra due settimane e ci piazziamo la live e la facciamo con tutte le cose che magari non sei riuscito a dire stasera e facciamo una parte 2 tanto guarda hai ricevuto un sacco di complimenti gente felicissima quindi non credo di aver mai parlato tanto in vita mia perché credo sia la prima volta che parlo per un'ora e dieci filata probabilmente il mio precedente record si assestava sui 15 minuti ma vabbè insomma direi che pretendiamo una seconda parte di Marco Mostarda faremo il possibile faremo il possibile intanto ti faccio una domanda più o meno stupida allora 1582 assedio di Ondendard non mi sono studiato le pronunce quindi sarà un disastro allora una scena fantastica cioè terrificante praticamente Alessandro Farnese che controlla la sua artiglieria che batte il forte e a un certo punto se non ricordo male una palla di cannone colpisce la tavolata e la trasforma nel set allo schizzo cervelli allora la domanda è ma quella palla di cannone era olandese o spagnola perché so che qualcuno ad esempio Duffy se non ricordo male dice che è stata sparata da un artigliere spagnolo ubriaco allora non ne ho idea so per certo che dopo la morte di Alessandro Farnese fra i terzi italiani impegnati nelle piandere ci fu una massiccia di aspora perché Alessandro Farnese nonostante fosse un diciamo un uomo di ferro per quanto riguardava la disciplina era considerato parziale nei confronti delle truppe italiane e dei dei maestri di campo dei maestri di campo italiani insomma dei terzi di provenienza italiana a tal punto che appunto dopo la sua morte ci fu una sorta fra virgolette di rivolta in cui molto spesso dei sottoposti spagnoli si rifiutarono di adiempire agli ordini o di applicare le direttive insomma di maestri di campo di estrazione italiana e appunto c'è questa questa sorta di liberi tutti in cui molti molti dei comandanti più fidati del Farnese che avevano militato nelle Fiandre che erano di estrazione italiana si posero per esempio al servizio del ramo austriaco degli Esburgo un esempio è Giorgio Basta che era stato appunto da Alessandro Farnese preposto dal comando della cavalleria tutta la cavalleria spagnola dell'armata delle Fiandre e che dopo la morte di Alessandro Farnese invece passa al servizio insomma degli Esburgo e nello specifico poi degli Esburgo d'Austria volevo dire nello specifico poi milita nel fronte transilbano con alterne vicende a un certo punto si è costretti a defenestrarlo per paura che venga massacrato dalla popolazione insieme alle sue truppe perché ha diciamo una manina piuttosto pesante nella gestione nella gestione delle popolazioni locali soprattutto da quel che si sa cerca di implementare delle politiche di cattolicizzazione forzata dei luterani transilbani e quindi per insomma per quieto vivere potremmo dire è costretto a ritirarsi anzitempo ecco questo è uno degli esempi quindi l'ipotesi che fosse lo spagnolo ubriaco di Daffi è plausibile diciamo che ce la teniamo come ipotesi plausibile ovviamente non credo si saprà mai arriva una domanda seria in questo caso allora ti chiede Emiliano Beri quando hai parlato di bastioni a tiro di moschetto ah scusa quando hai parlato di bastioni ah sì a tiro di moschetto moschettoni lunghi questa è una gran bella domanda vorrei poterlo sapere perché purtroppo le fonti non lo precisano almeno le fonti da me consultate il fatto che siano posti mediamente a 225 metri questa ovviamente la trasposizione moderna delle misure l'uno dall'altro mi fa pensare che più che appunto petrieri da braga o moschettoni o spingarde si parli propriamente di moschetti cioè del classico moschetto su forcella utilizzato dalle truppe campali ma purtroppo non potrei saperlo e non potrei dirlo con certezza insomma beh sì alla fine erano comunque armi tendenzialmente più utilizzate sì poi in realtà forse Emiliano è sulla strada giusta perché pensandoci bene gli olandesi non hanno una grande propensione per il moschetto pesante spagnolo appoggiato appunto su forcella tant'è vero che una delle proposte insomma fondamentali delle riforme olandesi di Maurizio di Nassau è quella di standardizzazione dell'armamento delle truppe che si attesta per la precisione sull'error che è il termine olandese con cui si traduce l'archibugio cioè quello che in inglese è chiamato caliber e per l'appunto il fatto che in inglese si è chiamato caliber già di per sé suggerisce il tentativo di una standardizzazione del calibro delle armi ma una standardizzazione per l'appunto verso il basso ovvero verso armi maneggevoli che non abbiano bisogno di una forcella per essere per essere azionato sul campo di battaglia quindi sì pensandoci bene credo che l'interpretazione di Emiliano sia quella corretta infatti ci scrive i 250 ci starebbero come distanza sì allora poi abbiamo abbiamo tanti complimenti come ti dicevo grazie buoni grazie Andrea che peraltro è valente valente pittore di Marina ricordiamolo Andrea Turla grazie mille allora poi ridè la specifica che nel Genova esatto i moschettoni da posta inizio 600 vengono definiti Spingard fra l'altro termine Spingard che poi è interessante che questa cosa che poi in seguito perde totalmente il significato militare diventano i fuciloni dita caccia di cui fra l'altro no no di cui fra l'altro parleremo nella prossima live quando presenteremo un evento interessante che avrà luogo in quello di Pistoia tra qualsiasi parleremo un po' di archibuggeria pistoiese uno degli aspetti sicuramente più interessanti dell'archibuggeria pistoiese ma poi soprattutto di quella toscana è la produzione di Spingard però in questo caso proprio di fuciloni per abbattere volatili una cosa che volevo aggiungere molto velocemente è che per esempio anche Montecuccoli parla di moschettoni se ben ricordi ne avevamo lungamente parlato tempo fa nel tentativo di capire cosa intendesse Montecuccoli la mia idea è che comunque molti degli autori dell'epoca anche persone come Montecuccoli che hanno una vastissima esperienza militare sul campo non sono semplicemente teorici da biblioteca utilizzino una terminologia piuttosto lasca e piuttosto imprecisa perché quando Montecuccoli parla di moschettoni da porre sul fronte dei quadrati di picche cioè una sorta di redizione delle guarniciones spagnole dei quadrati dei tercios molto probabilmente Montecuccoli non parla dei veri moschettoni d'assedio ma parla dei moschetti spagnoli quelli su forcella solo che lui già sovrapponeva il termine moschetto e archibugio quindi per lui il moschetto era l'archibugio e il moschettone era il moschetto non so se si è capito bene insomma cosa intendo no beh si capisco poi sicuramente in questi contesti la percezione se vogliamo dell'oggetto o quantomeno la definizione più che la percezione dell'oggetto cambia molto anche considerando il contesto per dirti in ambito civile 500 600 è difficile trovi sempre senti sempre parlare di archibugio non di moschetto per definire le armi che magari un bravo utilizzava per ammazzare una persona per cacciare mentre magari sempre nell'ambito civile quando si riferivano all'ambito militare trovi spesso il riferimento a moschetto o anche moschettone addirittura in un caso ho trovato anche archibugione sempre nel 500 perché comunque il problema l'archibusone dovrebbe essere di per sé un altro pezzo una sorta di pezzo di artigliere leggera dovrebbe essere per esempio simile ai pezzi che si usano sui parapetti delle navi che se non ricordo male sono chiamati archibusoni o petrieri o qualcosa del genere esatto fra l'altro c'è un'altra osservazione di Federico Falco se il tiro utile era di circa 100 metri 200 metri significa che la copertura del bastione comunque è sicurata dai due lati sì questo è vero ma il problema è che se uno prende 225 metri diciamo la metà all'incirca è 110 110 metri è già molto moltissimo per un archibugio per un moschetto dell'epoca perché le famose prove di tiro di cui riferisce Bertolle relative per l'appunto agli esperimenti utili gli esperimenti condotti negli anni 80 a Gras di cui peraltro se ben ricordi Paolo parlavamo giusto qualche giorno fa mostrano che non hanno sperimentato esatto esatto beh mostrano che a 100 metri a 100 metri le chance di piazzare un colpo con un moschetto sono del 50% cioè praticamente la lotteria non è più nemmeno balistica quindi 225 metri già di per sé non garantirebbero una copertura efficace con delle armi personali in dotazione all'afanteria dell'epoca probabilmente la soluzione giusta è quella per l'appunto suggerita da Emiliano Beri ovvero che si parli di moschettoni moschettoni non ne usciremo mai probabilmente di certo non sarò io a bevere la luce perché è veramente ostino come questione Emiliano Beri eccolo qui anche nel 700 ho trovato Archibugi in ambito civile si confermo è un termine che viene molto utilizzato sempre in ambito civile soprattutto diciamo che dal 500 in poi diventa più cioè in realtà c'è sempre nell'ambito militare però comunque lo si trova molto molto spesso utilizzato nell'ambito civile insieme allo schioppo che poi i due termini tendono un po' diciamo confondersi ecco a volte si parla di schioppo altre volte di archibugio Ridella ci scrive gli archibugi a crocco inizio 500 ah sono infatti armi portanti pesanti con un calibro di 25-30 mm sì peraltro se non ricordo male il primo a parlare di a croc per quanto riguarda gli archibugi se non ricordo male il di Ubelle o ma potrei sbagliare è comunque una fonte del 1520 1525 di ambito francese eh sì Marco Virginia Bognardi sia nel 700 i francesi già parlano di fusì tra l'altro già nel 600 nell'inventario di Luigi 14 delle armi di Luigi 14 non mi ricordo più l'anno si parla già di fusì in questo caso c'è se vogliamo si passa da sistema d'accensione da definire il sistema d'accensione che era il fucile che poi con il fucile più comune che era stato inventato in Francia il fucile alla moderna o alla francese e di conseguenza il termine va a definire l'intera arma e quindi abbiamo il fucile mentre magari in Francia nel 700 comunque il termine era già diffuso in Italia si tendeva ancora ad utilizzare il termine archivugio poi diciamo che c'è un un cambiamento nell'ottocento anche qui pian piano beh direi che se non ci sono altre domande considerazioni in realtà non ci diciamo addio ci diciamo arrivederci per la presumibile seconda puntata una scusa insomma probabilmente non sono andato incontro alle aspettative dell'auditorio perché non sono riuscito a trattare della parte dedicata all'operazione sul campo questo mi dispiace molto tanto più che avevo anche chiesto ad Emiliano Beri per l'appunto di mettermi a disposizione alcune sue fotografie lui ha gentilmente accettato riguardo per l'appunto al quadro della della Pinacoteca Nazionale di Siena che probabilmente ritraggono la battaglia di turnout volevo fare tutto un discorso su quel quadro anche sulla collezione che peraltro ho saputo essere stata recentemente messa insieme a Santa Maria della Scala cioè la vecchia collezione Piccolomeni Spannocchi a cui probabilmente quel quadro apparteneva al fatto che probabilmente le committenze artistiche di Ottavio Piccolomini comprendesse appunto quella tela riguardante il quadro riguardante per l'appunto la battaglia di turnout e che possano mettersi in relazione a un discorso sulle committenze artistiche più ampio perché per esempio ho scoperto che il Marchese di Leganess cioè il il genero di Ambrogio Spinola per averne sposato la figlia Polissena fondamentalmente faceva la stessa cosa ovvero collezionava quadri di battaglia cui non aveva avuto modo di partecipare personalmente forse con suo grande ramarico della serie H è peccato non ci sono stato ma devo avere comunque un quadro che la rappresenti e probabilmente Ottavio Piccolomeni faceva lo stesso fermo restando che Ottavio Piccolomeni è sicuramente alla base della committenza artistica di una famosa di una famosa tela di Snyers che è per l'appunto quella della battaglia di Lutz a cui invece Piccolomeni aveva preso parte e che è fondamentale ma spero di parlarne in una successiva puntata è fondamentale per ricostruire la preview eh sì diciamo sì questo è per sì il teaser trailer ecco sì eh sì sono d'accordo è meglio così meglio due puntate più approfondite Luca Mazzeo che salutiamo no ho che presumibile no no presumibile nel senso per me va benissimo poi insomma se va bene per Paolo va bene così ecco per me guarda va benissimo è un piacere anzi figurati eh credo che sia come dicevano anche gli altri avere due puntate è anche una cosa più interessante magari giusto il tempo di finire il ciclo di live ne mancano due benissimo tanto insomma la la presentazione in Powerpoint è fatta è stata fatta dieci giorni fa rimane quella insomma le cose sono già state sistemate ecco quindi quando volete volentieri io direi che al pubblico che ci segue a tutti in realtà forniremo più prima possibile informazioni sulla puntata numero due perfetto detto questo eh sì ho già ricordato cosa ci sarà mercoledì prossimo passeremo dalla produzione eh militare cioè la produzione dall'utilizzo di armi militari alla produzione fondamentalmente di armi civili in quella bellissima località che è Pistoia in Toscana dove producevano degli ottimi archivugi parleremo di questo e diciamo che ci sarà anche se vogliamo un aspetto più legato alla museologia museografia perché nell'ottobre di quest'anno ci sarà una mostra a Pistoia sulle armi pistoiesi e quindi parleranno i due curatori della mostra ovvero io e Benedetta Galingani che curerà qui la parte dedicata diciamo la parte dedicata all'allestimento quindi museologia e museografia quindi ci ritroviamo il prossimo mercoledì ci ritroviamo molto presto anche con Marco e ringraziamo tutte le persone grazie mille grazie a tutti grazie Emiliano e c'è una domanda di Andrea Turla girerete anche le slide partecipanti oh sì se volete tanto le slide in realtà sono semplicissime come dicevo io nell'ambizione di Sillus di poter trattare tutto sì ho semplicemente assemblato delle slides molto basilari con delle descrizioni semplicemente dei pezzi d'arte che ho scelto e per il resto sono andato a braccio quindi in realtà non vi aspettate nulla di che le slides sono quelle che ho mostrato ovvero delle immagini con delle didascalie molto brevi purtroppo non esiste un testo di questo intervento è solo le slides tutto qui abbiamo un ottimo intervento comunque sì insomma se volete le slides posso passarvele tranquillamente ma insomma non sono nulla di più di quello che ho mostrato ecco perfetto ah sì e Silvio ci dice due puntate più una mi volete morto praticamente poi la quarta facciamo direttamente un aperitivo da qualche esatto un momento recreativo ci sta dopo tre puntate no ovviamente durante l'aperitivo continuiamo a parlare magari assolutamente sì aspetti militari navali sappiamo bene anche con Silvio di essere vagamente monomaniacali quindi sì sicuramente si parlerà di questo senza ombra di tutto niente allora salutiamo tutti vi ringraziamo ringraziamo per tutto Marco per la bella esposizione ed è un arrivederci Marco e alla prossima buona serata a tutti buona serata grazie a tutti